Buonasera, buonasera da Honda TG, in primo piano la pagina delicata alla Lavoro, all'occupazione, nuovi licenziamenti al call center 3G di Sulmona, in 91 rischiano di perdere il posto di lavoro con l'azienda che ha aperto la seconda procedura di licenziamenti. Noi facciamo il punto nel servizio. In 197 rischiano il posto di lavoro, di cui 91 a Sulmona, 106 a Campobasso. Il call center 3G apre la seconda procedura di licenziamenti. La notizia arriva come un fuminaccio e il sereno da Antonietta Santa Venere, Antonio De Simone e entrambi i componenti della Fistel Cisle, che ieri hanno tentato di trovare un accordo con l'azienda ma non c'è stato, nulla da fare. Si va verso nuovi licenziamenti e la proroga scade il 20 giugno. L'azienda, nelle motivazioni in resse sindacati, ha spiegato che deve far quadrare i conti dal momento che starebbe ancora pagando gli esarcimenti ai 50 lavoratori del primo procedimento, come ordinato la Tribunale di Sulmona. Tocca ad Antonio De Simone lanciare un segnale ben preciso alla politica. In questa zona c'è pochissima sensibilità, in calza De Simone, che scuote la politica ad essere più attenta e meno sorda sul tema. Si continuano a perdere posti di lavoro in un territorio che, al contrario, avrebbe bisogno di un'inversione di tendenza. E intanto su Garanzia Over è stato pubblicato il nuovo bando che prevede 65 assunzioni per un importo totale per un investimento globale di 600 mila euro. Noi sentiamo tutto nel nostro servizio. Quarta gradatoria per il bando Garanzia Over che prevede contributi a fondo perduto per le aziende che assumono personale a tempo indeterminato. Sui siti istituzionali regione.abruzzo.it e abruzzolavoro.eu è stato pubblicato l'elenco delle aziende ammesse a finanziamento che hanno presentato la candidatura per l'assunzione di personale dal 2 al 31 gennaio 2017. Al pari delle precedenti pubblicazioni, anche quest'elenco prevede la suddivisione tra richieste di assunzioni ricadenti nei comuni compresi in aree di crisi e aree interne, la linea 1, e nei rimanenti comuni della regione, la linea 2. In totale, questa quarta gradatoria finanzia 65 assunzioni a tempo indeterminato per un impegno di spesa superiore a 600 mila euro. Sui siti istituzionali è stato pubblicato anche l'elenco delle aziende le cui domande sono state escluse. Il bando procede a pieno ritmo, esordisce l'assessore alle politiche del lavoro Andrea Gerosolimo. Gli uffici mi hanno confermato che ogni giorno arrivano nuove candidature di aziende che vogliono assumere. I risultati e l'attenzione delle imprese confermano la bontà e il valore di garanzia over allo Stato l'unica misura diretta che permette alle aziende di ottenere contributi economici a fronte di assunzioni. Nei prossimi giorni, conclude Gerosolimo, faremo il punto sul bando, fornendo cifre ufficiali su assunzioni, aziende interessate, fondi utilizzati e aree territoriali interessate. E ora la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Il comune di Sulmona, capofila del progetto insieme a quello di Casteldisangro, a disposizione ci sono 450 mila euro e oggi è stato sottoscritto l'accordo per la costituzione di un'associazione temporanea di scopo. Ma sentiamo meglio un eservizio. Permettere l'uscire da una condizione di fragilità sociale attraverso l'attivazione di progetti individualizzati di accompagnamento al lavoro, in grado di fornire risposte rifferenziate in funzione delle caratteristiche e dei bisogni dei destinatari. Il comune di Sulmona è capofila di un'associazione temporanea di scopo per contrastare la povertà e l'esclusione sociale. E sarò firmato oggi a Palazzo San Francesco l'atto costitutivo tra il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, rappresentante dell'ente capofila dell'ambito sociale distrettuale numero 4, Peligno, il sindaco di Casteldisangro, Angelo Caruso, comune capofila dell'ambito distrettuale sociale numero 6, Sangrino, e rappresentanti dei soggetti facenti parte della rete, la Sintab SRL, il Centro di Formazione Opporti Uniti SRL, il Consorzio PMI Alto Sangro e Manpower SRL. Il progetto intitolato Wake Up Lavoro prevede l'attuazione di drogini formativi e attività di inclusione sociolavorativa a favore delle persone in condizioni di svantaggio e povertà certificata, residenti nel territorio degli ambiti interessati, presi in carico ai servizi sociali e professionali. Abbiamo ottenuto l'importante finanziamento pari a 449.399 euro della regione Abruzzo, nell'ambito del bando Abruzzo Include, programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, risultando al quarto posto della Grottatoria regionale. Esprimiamo soddisfazione per l'obiettivo raggiunto, grazie al lavoro di Senergia, con il conferenzio dell'Alto Sangro, nella persona del sindaco, Angelo Caruso, e con gli altri partner coinvolti. Operatori nel campo della formazione delle politiche del lavoro, nella consapevolezza che interventi per l'integrazione sociolavorativa possono essere affrontati solo in maniera congiunta, afferma il sindaco Anna Maria Casini. Si tratta, sostiene l'assessore sociale e vice sindaco Mariela Iommi, di un importante strumento in grado di contrastare la povertà e favorire l'inclusione attiva di soggetti svantaggiati, dando loro un'opportunità concreta, a fine di poter consentire loro di rimettersi in gioco e superare le difficoltà. Ora l'edilizia scolastica che torna al centro dei riflettori e sull'istituto Masciangeli di Sulmona ha partito il conto alla rovescia per l'inizio dei lavori di adeguamento sismico, conto alla rovescia anche per la scadenza della gara dei MUSP che arriveranno a settembre. Facciamo il punto nel nostro servizio. L'incarico per l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico è stato affidato lo scorso 11 maggio, ma docenti e famiglie attendono ancora l'avvio dei lavori nell'istituto Masciangeli di Sulmona. Il cantiere stende a partire, ma per l'assessore comunale all'istruzione Paolo Santarelli è questione di qualche giorno. Dobbiamo solo attendere il completamento di alcune procedure. L'apertura del cantiere non è lontana, rassicura Santarelli. Se tutto filerà liscio, l'inizio dei lavori potrebbe esserci da un momento all'altro, mentre l'ingresso degli studenti nella sede storica di Viale Mazzini si prevede per la primavera del 2018, sempre se gli interventi di adeguamento sismico avranno una durata dai 6 ai 9 mesi. Sulla scuola elementare, Luciana Masciangeli è previsto un intervento di adeguamento sismico che rientra nel progetto Scuole Sicure. Il comune gode di un finanziamento di 16 milioni di euro. Parte di questa somma è stata impiegata per i lavori alla Masciangeli. La struttura sarà adeguata al 100% dal momento che saranno installati degli isolatori sismici. A partire da settembre 2017, gli alunni saranno trasferiti nei MUSP, i moduli provvisori che saranno allocati nell'ex caserma Cesare Battisti. La gara è partita regolarmente, ora si attende la chiusura dell'avviso pubblico per conoscerne l'esito. Giovani del servizio civile in aiuto dell'Associazione Aias per il censimento delle barriere architettoniche sul territorio comunale di Sulmona e anche delle disabilità grave. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Censire tutte le zone del territorio comunale di Sulmona per individuare le barriere architettoniche e le gravi disabilità. Saranno i giovani del servizio civile a coadjuvare l'Associazione Aias nel suo ambizioso progetto che mira segnalare tutte le barriere architettoniche presenti in città e individuare la collocazione dei disabili gravi nell'ottica della prevenzione. Se l'Aias già possiede una mappatura della disabilità si rende necessaria una ricognizione più attenta soprattutto perché ci sono dei disabili gravi che restano in casa senza un minimo di assistenza anche nei casi di emergenza. Sappiamo quanti ne sono e dove sono solo che questo censimento non è ufficiale perché alcuni gravi sono a casa senza un'ora di assistenza e se succede un terremoto qualcosa di... la neve per esempio tutti questi problemi... Il censimento delle barriere architettoniche e la massima attenzione alla disabilità sono tutte priorità già iscritte nel piano sociale distrettuale Peligno 2017-2018. E per tutta la Valle Peligno la Valle Sagittario e tutto quanto il distretto sociosanitario perché ormai sono 17 comuni che fanno parte dello stesso piano sociale prossimo. Ovidio ha morto nel 2017 anzi no nel 2018 il particolare che è emerso ieri nella riapertura dell'auditorium dell'annunziata di Sulmona nel primo della serie di incontri di L'altro Ovidio Barbara Nelle Monache nel servizio Le metamorfosi di Ovidio continuano a catterare l'attenzione del grande pubblico che ieri ha partecipato all'incontro inserito all'interno del progetto L'altro Ovidio contributi moderni su tematiche senza tempo il poeta dell'amore l'antagonista per eccellenza di Virgilio che ha voluto fare delle sue opere una sorta di rottura le metamorfosi sembrano vivere ancora e chi le conosce o impara a conoscerle rimane affascinato da quello che Ovidio è riuscito ad interpretare ma la notizia vera del convegno di ieri poveriggio è stata quella lanciata dal professor Antonio De Vivo che ha annunciato che Ovidio non muore nel 2017 ma bensì nel 2018 una novità che ha colto tutti di sorpresa e che sicuramente merita di essere approfondita questo primo convegno mi vede presidente dell'associazione Ares ha precisato Antonino Crociata sono molto soddisfatto dello spessore dei partecipanti che hanno saputo rendere un argomento complesso alla portata di tutti così si dovrebbero studiare poeti chiuso questo dibattito ci concentriamo su domenica Ares è infatti organizzato alle 18 a Villa Sofia il concerto dedicato ad Antonio Pelino un omaggio per chi ci ha preceduto ed oggi non c'è più ad ospitare il convegno il rinnovato auditorium di Palazzo dell'Annunziata e così proseguono le attività legate al bimilenario della Mortelio Viglio promosse dall'associazione di ricerca Europa Sul Mona Ares Antonio Pelino grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Anna Maria Casini che ha sottolineato stiamo vivendo un anno importante e questi convegni oltre a tutte le attività organizzate ci stanno permettendo di conoscere al meglio il nostro più illustre cittadino muso ispiratrice dei più famosi artisti del mondo fra fede e preghiera riconsegnato alla chiesa di Sant'Antonio a Sul Mona lo storico crocifisso dopo il restauro finanziato dall'Inner Week Club di Sul Mona e dalla fondazione Carispa che noi vediamo tutto nel nostro servizio con una cerimonia con una cerimonia toccante partecipata che si è svolta il mercoledì sera è stato riconsegnato alla chiesa di Sant'Antonio soprattutto a culto dei fedeli crocifisso Ligno dopo un lungo restauro durato oltre un anno il restauro è stato sostenuto dall'Inner Week Club Sul Mona in collaborazione con la fondazione Carispa che il comitato dei fedeli il restauro eseguito dal consorzio arcovaleno guidato dal maestro restauratore Paolo Cui ha restituito a crocifisso Ligno l'antico splendore alla cerimonia di consegna che si è svolta nella chiesa di Sant'Antonio hanno partecipato oltre ai restauratori la presidente dell'Inner Week Club Sul Mona Rosana D'Aurelio Bianchi Domenico Taglieri presidente della società di scopo e già vicepresidente della fondazione Carispa la dottoressa Anacolangelo funzionario della sovrintendenza il vescovo di Sumona Valvangelo Spina padre Carlo Serri ministro della provincia d'Abruzzo dei frati minori e padre Emilio il crocifisso attribuito alla scuola di Giovanni Teotonico risale al sedicesimo secolo rappresentano un'opera d'arte importante per il territorio per una serie di caratteristiche tra cui un particolare meccanismo scoperto in serie di restauro che fa muovere la lingua e che lo rende orante statue e linee con tali caratteristiche venivano utilizzate nei secoli scorsi durante la settimana santa per la teatralizzazione della passione di Cristo torniamo a parlare di commercio ed economia con le spese dei sumonesi e vediamo se preferiscono pagare in carta di credito o invece in contanti nella nostra raccolta di opinioni carte di credito bancomat prepagate comode e sicure senza dubbio ma nemiche del risparmio in tempo di crisi per tenere sotto controllo il budget settimanale sul buonesi almeno quelli che hanno risposto alla nostra raccolta di opinioni scelgono di pagare in contanti se da un lato le carte di credito sono più comode e meno ingombranti più adatte una società che si evolve controllare quanti soldi scappano dal portafoglio è un modo per i sumonesi per agire e spendere con prudenza certo il contante bisogna averlo e purtroppo non basta tenersi solo all'uso della moneta sonante per vedere rifiorire la propria economia domestica quando lavoro manca e non si è la possibilità di altri guadagni si parla di economia nelle piazze cittadine e viene meno il sorriso e ora la festa del carciofo apprezza perché questa sera cala definitivamente il sipario ed è il giorno del cantatore Giuliano Palma tesissima la sua esibizione che ci sarà fra poco alle 21 e 30 dopo l'apertura degli stand gastronomici ma sentiamo meglio nel nostro servizio tutto pronto per il concerto di Giuliano Palma che chiuderà questa sera la festa del carciofo apprezza l'esibizione del rinomato cantautore è divenuto celebre soprattutto con il singolo messico e nuvole era prevista lo scorso 20 maggio ma è stata procrastinata questa sera a causa delle condizioni atmosferiche avverse di quei giorni l'appuntamento è alle ore 21 e 30 quando comincerà il concerto ma prima sarà possibile degustare le prelibatezze culinarie della terra peligna con l'apertura degli stand gastronomici tutto il paese assieme a sindaco Marianna Scoccia resta in trepida attesa del cantante previste non poche presenze anche dei comuni limitrofi con il concerto di Giuliano Palma tornano al centro dei riflettori Prezza e il carciofo Prezzano prodotto che sarà valorizzato tra le altre cose con la cooperativa di comunità e ora la pagina sportiva con il Gran Sasso Volei Pratola 78 scoppia la festa al termine di una stagione ricca di successi e l'imprenditore Vincenzo Santa Croce assume la presidenza vediamo tutto portare avanti l'attività svolta finora nel solco della tradizione guardare a futuro con più slancio e fiducia questi i primi obiettivi della nuova compagine della Gran Sasso Volei Pratola 78 presentata ieri sera con una grande festa di fine stagione assume la presidenza l'imprenditore Vincenzo Santa Croce ma nello staff ci sono anche Elia Falavollita vicepresidente Massimiliano Cavallaro segretario Paolo Pietro Zavarella direttore sportivo Lodovico Presutti consigliere Enzo Olimpio consigliere si riparte da una stagione ricca di successi anche per il volley tornato al centro del territorio tra i risultati più significativi confezionati dalle ragazze pratolane quest'anno è stato un anno grandioso per la nostra società campioni interregionali ante il 18 campioni regionali ante il 14 con le finali internazionali a Treviso la salvezza anticipata con la Serie C cercare di fare bene ma principalmente cercare di continuare quello che hanno fatto tutti diciamo tutte le persone coinvolti in questa voglia che mi hanno preceduto che hanno portato onore tanto è che è una società sportiva che opera dal 1978 quindi è una delle più antiche della Valle Peligna ha sempre dimostrato attaccamento al territorio e quindi diciamo l'auspicio principale è quello di riuscire a portare avanti ancora la tradizione la GS Valle Pelotra 78 oramai si avvicina quasi a un lustro è una realtà consolidata nel territorio abruzzese perché comunque siamo fra le prime squadre in assoluto a livello giovanile e sicuramente per quello che concerne la Serie C facciamo la nostra parte confidando sempre solo e soltanto sulle nostre ragazze e su ragazze giovani un in bocca al lupo per la prossima stagione arriva anche dal sindaco neoeletto Antonella Di Nino che ha salutato ragazze coach e dirigenti al via la seconda edizione del trofeo città di Sulmona che è cominciata ufficialmente proprio nel pomeriggio si tratta di un torneo nazionale di calcio giovanile organizzato dall'Olimpia Cedas da oggi a domenica tre giornate di gare allo stadio Pallozzi di Sulmona per la categoria esordienti e a Raiano per i Pulcini in totale 15 le scoperte 8 per i Pulcini 7 per gli esordienti questa sera è in programma la cerimonia inaugurale che sarà preceduta dal corteo dei bambini della Cordesca che accompagnerà le squadre fino allo stadio Pallozzi il corteo partirà alle 21 da piazza Plebiscito per attraversare Corso Ovidio una volta giunti allo stadio comunale verranno presentate le squadre al termine del cerimoniale i riflettori del Francesco Pallozzi resteranno accesi per la sfida tra gli esordienti del Sulmona e della formazione campana Vincenzo Riccio a partire dalle ore 22 e ora il quarto Memorial dedicato a Marco Liberatore uno dei due reggbisti morti nell'incidente del 18 gennaio 2014 sull'altopiano delle 5 miglia l'appuntamento il prossimo 25 giugno a Corfinio Domenico Verlingeri nel servizio una giornata ispirata ai sali principi dello sport e del divertimento per ricordare Marco Liberatore uno dei due giovani reggbisti morti nell'incidente del pulmino del Sulmona Rugby nel gennaio 2014 si tratta di un appuntamento fisso del mese di giugno scelto non a caso dagli amici in quanto Marco era nato il 22 giugno il Memorial giunto alla quarta edizione si svolgerà quest'anno domenica 25 giugno al capo sportivo di Corfinio intitolato proprio a Marco Liberatore ascoltiamo uno degli organizzatori Marco Puccilli lui era uno sportivo e quindi vogliamo che ogni anno questo Memorial ci sia per ricordare la sua memoria e per lo sport perché lui comunque amava lo sport era un reggbista il suo sport preferito era il rugby però era uno sportivo a 360 gradi amava tutti gli sport infatti sarà una giornata piena di sport il quarto Memorial Marco Liberatore comincerà alle 10.30 con l'esibizione del sestiere porta bonomini di Sulmona a seguire spazio al calcio con un triangolare tra tre squadre peligne promosse in categoria superiore Virtus Prato la Moronese Ovidiana alle 11 bambini dai 6 ai 14 anni daranno vita alle mini olimpiadi alle 12.30 si esibiranno la Ginnasium Schermaclub la scuola di arti marziali a Pchido di Sulmona ed il personal trainer Jacopo Massaro pausa pranzo alle 13 quando ci sarà la possibilità di accomodarsi all'ombra dei padiglioni attrezzati con tavoli e panche per tutti verrà distribuito un pasto gratuito offerto dalla famiglia di Marco Liberatore le attività riprenderanno alle 14 con l'esibizione del maneggio il Castelluccio di Raiano e del gruppo arcieri storici di Popoli per rendere omaggio alla vera passione di Marco il clou sarà rappresentato da un torneo di rugby a partire dalle 15 verranno anche alcuni ex giocatori che ora sono fuori sul Mona per Marco al termine il classico terzo tempo con un buffet di dolci e poi riconoscimenti per tutti a fine manifestazione faremo una premiazione dove tutte le squadre che hanno partecipato avranno un ricordo di Marco ovviamente invitate a partecipare tutti coloro che conoscevano Marco Liberatore ma anche quelli che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo è vero? sì esatto domenica 25 giugno a Corfinio invitiamo tutti gli amici di Marco chi conosceva Marco anche chi non conosceva a trascorrere una giornata con noi perché oltre a essere una giornata all'insinia di Marco al ricordo di Marco è una giornata di sport Quando vivevo sulla terra è il titolo del volume di Ottaviano Giannangeli che sarà presentato domani alle 18 al Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona fra gli altri interverranno anche l'autore e modererà l'incontro Rosa Gianmarco e ora siamo arrivati come ogni sera alla buona notizia del giorno star wars here they come Una notte bianca diversa è sui generis quella che si appresta a vivere Prato la Pelinia nella serata del prossimo 19 agosto. Come si dà anticipo sulla tabela di Marche, il countdown è partito. Programmazione resta la parola d'ordine dell'associazione Spazio Giovane che organizza l'evento per il quarto anno di fila. Il tema di questa edizione riporta indietro nel tempo, precisamente agli anni 70-80, con quella musica rivisitata che fa divertire i giovani ma anche gli adulti. Sarà la festa di tutta la comunità, annuncia Lorenza Petrella, presidente di Spazio Giovane, che non svela per il momento altri particolari e lascia quel pizzico di curiosità che non guasta. I pratolani ci fermano per strada, ci scrivono messaggi dicendo che non vedono l'ora che arrivi questo 19 agosto e di questo siamo davvero contenti, perché è un tema che racchiude non solo i giovani, perché comunque la musica di quegli anni, di quell'epoca è bellissima, ma racchiude e comprende anche i nostri genitori. Quindi non vediamo l'ora che arriva il 19 agosto, stiamo gasati, lasciatemi passare il termine, stiamo lavorando alla grande. La macchina organizzativa sta scaldando i motori da febbraio, Spazio Giovane tenderà di calare il poker dopo tre edizioni della Notte Bianca, ricche di successi e partecipazioni. a far l'amore cominci a tu, a far l'amore cominci a tu, stoppia stoppia mi sto! E' davvero tutto per questa edizione, Onda Rigi torna domani, grazie per essere rimasti con noi, a tutti voi lascio la buona serata, arrivederci. Sous-titrage ST' 501